Salve a tutti io sono TheOfficialVideogames e benvenuti in questo nuovo video della serie di PC Building Simulator Workshop Overclock UK quindi ragazzi gli sviluppatori si sono dati da fare veramente tantissimo quindi un primissimo applauso va agli sviluppatori di PC Building Simulator che apprezzo veramente questo titolo dato questo bando alle ciance dunque allora vediamo un po' ragazzi che cos'è che hanno aggiunto in questa nuova versione ovviamente per adesso sono ancora all'inizio se così si può dire quindi ci possiamo dare già leggermente una spippolata in giro dunque allora qua possiamo uscire oddio che bello fighissimo fighissimo ragazzi già Overclock UK già ragazzi guarda qua Maronne Santi guarda qua Madonna ragazzi non vedo l'ora subito di metterci sopra le mani per vedere che cos'è che hanno aggiunto se hanno aggiunto veramente tantissima roba tazze oddio cosa qua la nostra postazione anche le caramelle che bello che bello ragazzi non vedevo l'ora che aggiornavano questo cavolo di gioco serio ragazzi sono serio finalmente hanno aggiunto anche le poltrone come diciamo tra virgolette per ambientare un po' di più ovviamente l'aspetto del negozio e quant'altro Maronne Santissima ragazzi Maronne guarda qua Maronna mia questo qua di sicuro ci sarà anche l'azuto liquido ci sta anche l'azuto liquido caramelle buttate sul divano ah che goduria che goduria ragazzi ci sta anche l'azuto liquido per poter fare Overclock estremo guarda qua Maronna mia che bello che bello che bello che bello ragazzi ragazzi non vedo l'ora subito di arrivare al trentesimo livello Maronne guarda qua c più c più motorboard memorie grafiche schede grafiche storage Maronne Santissima ragazzi Maronne Santissima Maronne guarda qua madonna mia che figata che bello che bello ragazzi che bello non vedo l'ora di metterci subito sopra le mani dunque arrivato a questo punto bando alle strà super iper ciancissime vediamo un po' che cos'è che hanno aggiunto shop facciamoci un giro nello shop oh madonna oh madonna c più processor per adesso sono sempre gli stessi intel c più cooling mortoni e cryo rig perfetto motorboard dfl mortoni per adesso le ram sean dfl e mortoni perfetto schede grafiche dfl sean msi gigabyte e vga già ci sono queste qua perfetto ottimo storage sean e mortoni va benissimo power supply sean va bene il cablaggio il cablaggio per adesso ancora quello case silvestone raging tech cooler master antec case fan mortoni va benissimo e tools vediamo un po' occt usb si diciamo che auto cablaggio custom water cooling shop gpu tuner autoscreen tools si vabbè diciamo che le stesse cose sono rimaste sempre le stesse però comunque sia già che hanno incrementato in pratica il gioco overclock madonna mia ragazzi madonna veramente un applauso agli sviluppatori dunque detto questo vediamo un po' email togli davanti questa e goto pc oddio che bello oddio che bello maronne oh dai che bello guarda qua hanno messo anche la lampadina che bello oh guarda qua c'è no intel core i7 aspettate che lo vedo da sto lato cavolo ryzen 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 questo qua dovrebbe essere intel core i9 x series questo qua serve per fare l'overclock estremo ragazzi no madonna mia caramello ovunque caramello ovunque perfetto dunque damose bando alle ciance e ok si lo so com'è che funziona il gioco tizio dunque mettiamo subito la chiavetta usb mettiamo anche i cavi perfetto usb e quest'altro qua usb perfetto accendi tutto e damose omega system è rimasto sempre quello perfetto dunque ragazzi dicevo omega system il sistema operativo è rimasto sempre lo stesso dunque allora vediamo un po' dov'è che era dov'è che era virus scan perfetto installiamo questo virus scan nel frattempo ragazzi madonna mia maronne mia maronne mia non vi do l'ora di metterci le mani sopra e vedere che cos'è che hanno aggiunto in più rispetto a come era prima al workshop della nzxt già che hanno cambia eh sì infatti ragazzi infatti overclock estremo sì 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 guarda qua maronne ancora me l'ho visto oddio dai ditemi che è vero ditemi che è una cosa vera perché io guardate ragazzi ci muoio felicio ci muoio felicio maronne santissima maronne santissima maronne santissima oddio che bello oddio che bello dunque togliamo le schifezze da su questo pc a maledizione a voi e le cosacce e che cos'è andateci piano ragazzi con ste cosacce sui pc e mi raccomando lascia sì ok ho capito guarda qua che figata madonna mia madonna mia non vi do l'ora non vi do l'ora di andare avanti perché voglio andare avanti collect perfetto discard e passiamo subito al giorno dopo perfetto ecco qua continua eccoci qua perfetto perfetto ottimo dunque allora vediamo un po' quanti altri pc possiamo sistemare allora questo qua lo togliamo accetta sì lo so com'è che funziona ho capito ho capito questo qua accetta pure questo è perfetto ah aspettate aspettate aspettando sta la bachica con tutti gli ordini e quant'altro ah eccola qua ok perfetto dunque ripassiamo di nuovo il giorno dopo perché qua in pratica è vuoto cacchio sta la porta aspettate no posso lavorare anche al buio posso lavorare anche al buio però sta cosa qua mi sa un po' di tristezza immane dai su ragazzi risparmiamo un po' di corrente cose buone giù no aspettate hanno cambiato anche le scatole overclock uk si infatti hanno cambiato anche le scatole perfetto allora questo qua dobbiamo rimuovere anzi dobbiamo sistemare una scheda grafica che dovrebbe essere questa qui in pratica togli questa qua allora reprace dobbiamo sostituire una scheda grafica e installare una 970 gtx o superiore alla 970 allora noi abbiamo già 85 dollari ci facciamo ben poco dunque schede grafiche vediamo un po' dove che erano le dfl o le shean eccole qua quindi 970 possiamo fare anche una xlr facciamo pagamento subito alla consegna non fa niente che andiamo sotto con i soldi dove stanno i pacchi che mi arrivano pacchi che mi arrivano andostate ah eccoli qua perfetto perfetto aspettate che c'è una cosa che mi cammina sui piedi e che cos'è mannaccia la miseria uh eravamo arrivati qua perfetto dove che sta eccola qua aspettate ma non è che ho presa la stessa ah no non può essere mai la stessa perfetto installa ah 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 che cos'è buon uomo ah no ok perfetto e oh eh sì mi scusi se quando c'ho un minutino un minutino di pazienza forse magari mi potrebbe anche sistemare sta roba non è questo qua il pannello laterale che poi dopo dobbiamo anche accendere sistemare e quant'altro allora cavlaggio eccolo qua è ok perfetto dunque accendiamo il pc una volta fatto questo ci possiamo anche salutare dai su forza tizio buon uomo insi mio signore ok questo qua che cos'è ah cacchio non ho manco visto perfetto dai ragazzi allora io direi quasi quasi di fermarmi qui con questo primissimo appuntamento della serie di pc building simulator workshop overclock edition chi più ne ha più ne metta ragazzi veramente una figata pazzesca detto questo mi fermo qui e da the official video games è tutto mi raccomando spolliciate condividete commentate questo video e da the official video games è tutto noi ci si becca in un prossimo video ciao 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 cannota ciao 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 Grazie per la visione!